Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 fino al 18 giugno chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Bologna. In FIPILI tratto chiuso per lavori tra Livorno Porto e Livorno Aurelia in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze restringimento di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Bargino in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia per lavori chiusi gli svincoli di Gavorrano in direzione Sud e di Cecina Nord in entrambe le direzioni. Fino alle 17 di oggi chiuso anche lo svincolo di Follonica Nord in direzione Sud. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!